Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirai Solo a luglio vai in vacanza con DR grazie al super bonus di ben 2000 euro DR 5.0 unica e tua a soli 17.900 euro Full optional di serie anche senza rottamazione Venite a scegliere la vostra nuova DR Vi aspettiamo presso la concessionaria Fratelli Meloni a Rho Grazie